Su, dai, guardi, dai! In una palestra della lontana Svaropoli E guarda che si dice Stientopoli Sette pseudo atleti si ritrovarono per affrontare la sfida della loro vita D'un tratto entrarono gli sfidanti Enormi sfidanti Dopo giorni di duro, durissimo allenamento Arrivò il fatidico giorno della partita Buonasera gentilissimi signore e signori Vi presento la squadra di partenza dei Pear Play Giunti per questo incontro unico e decisivo Dalla lontanissima Mauro Mountain Ecco a voi i favolosi Monstars Grazie a tutti Quando tutto sembrava perso Uno dei nostri eroi decise di prendere in mano la situazione La partita terminò E i nostri eroi riuscirono a portare a casa la vittoria E nuovi amici E i nostri eroi riuscirono a portare a casa la vittoria E i nostri eroi riuscirono a portare a casa la vittoria